I.D. è uno spettacolo che Sinti Lugas porterà nel caccio di Roma è uno spettacolo pieno di energia, fatto con musiche moderne e soprattutto la storia di una piastra metropolitana di oggi con le problematiche ovviamente di tutti i giorni fatta con 22 artisti e 10 tecnici che girano ormai il mondo da circa 3 anni